Buonasera ragazze, sono arrivata a casa, comincio un altro vlog, confesso che mi sto sforzando ma devo perché le notizie, ecco. Tra l'altro sono uscita dal lavoro, oggi niente allenamenti, niente cose, niente qui, niente lì e ho detto esco dal lavoro e vado da Sephora, così, a farmi un giro. Peccato che prendo la tangenziale, una coda che non vi dico, quindi prontamente ho preso la deviazione e sono venuta a casa perché di farmi un'ora in coda anche no, quindi questo. Quindi sono chiusa in macchina sotto casa perché sì, però mi piace nei vlog farvi vedere effettivamente quello che è, so che molti di voi lo apprezzano perché... Le notizie le sentiamo tutti, non sono mai stata una virologa, né sono tantomeno una politica, però veramente vi dico ragazze, oggi sono un po' attonita, sono un po' sopraffatta, sono un po' così. Quindi sono veramente... mi mancano quasi le parole, nel senso che comunque uno prova a impegnarsi, a fare le cose che deve, a reagire. Poi nel 2022 senti certe cose e ti sembra effettivamente che invece di andare avanti andiamo indietro. Anzi, forse tempo fa, parecchio tempo fa, potrei anche avere quasi la presunzione di dire che le cose andavano anche meglio, perché prima perlomeno non eravamo così tecnologici. Cerchiamo di capire... cioè, spero che si capisca quello che voglio dire. Quindi da un certo punto di vista, se ci pensate, è anche peggio. Volevo appunto andare da Sephora per distrarmi, poi nella strada del ritorno c'è il Caddis, ci sono un po' di posticcini che stasera... La cena è pronta, non mi devo allenare, non devo vedere nessuno, non posso andare, perché probabilmente sarà successo un incidente, non lo so, ma c'era una coda fotonica. Se non avessi avuto la prontezza di fare la deviazione per venire a casa, perché nella tangenziale ci sono le varie deviazioni, in una c'è una deviazione che poi porta direttamente a casa dove abito. Se non avessi avuto questa prontezza, probabilmente sarei stata in coda fino alle 9 di stasera. E sinceramente, cioè, se uno finisce di fare le cose che deve di lavoro, vuole svagarsi un po' e perde lo tempo in macchina anche, no? Quindi questo. Mi sono sforzata a cominciare un altro vlog, perché mi fa bene parlare in questi momenti, perché mi fa stemperare un po' le cose, però veramente ritengo che forse dobbiamo darci tutti un po' un giro di vita, nel senso che cominciare a essere veramente grati perché a pensare a nostri coetanei, a prescindere, no, è sbagliato dire coetanei, a persone come noi che lavorano, che hanno la loro vita, che stamattina si sono svegliate e che stanotte c'è stato un attacco di guerra. Ragazze, un attacco di guerra. Io ero, cioè ero, sono attonita, sono basita, cioè in pausa pranzo, ero, scusate, ero coi colleghi, vedo la televisione, cioè un'angoscia che dobbiamo seriamente, secondo me, cominciare a essere grati e a lamentarci un po' di meno. Lo dico a voce alta, perché io poi sono anche una di quelle che purtroppo a volte lo fa, quando mi prende un po' il tarlo, le cose, però veramente che stamattina si è svegliato a Kiev, non so come, come possa stare, come, cosa possa pensare, non lo so. Non lo so. E dobbiamo veramente tutti, secondo me, farci un bel esame, non di coscienza, ma mentale. Comunque, adesso vado in casa, penso che mi mangerò uno iogurtino perché ho un po' di fame. Oggi a Palanzo ho mangiato la carne con i piselli spadellati. Qui c'è qualcuno che ha suonato un clacson. Prendono la via come un'autostrada. Io, le vie del... chi prende le vie del centro come un'autostrada, giuro, non le concepisco. Comunque. Non so se mai vedrete questo vlog, ma ci vediamo, credo, domani con la continuazione. Sperando che tutta questa cosa finisca in fretta, che vengano ascoltati gli appelli di tutte le nazioni europee non coinvolte al momento. A un... C'è stato il fuoco. Sì. Buongiorno, benvenuta nella continuazione del vlog. È venerdì. Sono arrivata al lavoro, ho parcheggiato nel mio posto tattico che qualche mattina me lo lasciano libero, cioè a 100 metri dall'ufficio. In realtà non sarebbe un posto, ma siccome in questa via oramai parcheggiano un po' alla spera... non dico cosa, alla spera in Dio, non voglio già essere volgare alla mattina, l'ho trovato libero. Detto ciò, oggi c'è il sole. Insomma, le notizie sono quelle che sono, ma cerchiamo di pensare positivo, pensare bene più che positivo. Non mi piace più la parola positivo, anche quello che ci siamo e ci trasciniamo dalla pandemia, quindi pensiamo bene. Ok, detto ciò, qui questo signore mi starà prendendo a parole del tipo mi hai rubato il posto, perché questo è uno che ha l'ufficio più avanti, oramai ci conosciamo tutti. Detto ciò, parlando di cose che ci piacciono, ragazze, allora, oggi il trucco... Ho finito una cipria della quale parleremo. Assolutamente ve ne devo parlare, però c'è stata una piccola sbavatura della quale non me ne sono accorta. Cosa dite? Si vede? Ma no, ma neanche più di tanto, non riesco... Perché il mascara di Yves Saint Laurent, che sostanzialmente credo che ve lo inserirò nei finiti beauty di febbraio, che devo girare, non mi ha dato grosse soddisfazioni. Non credo che ci dedicherò una beauty recensione, ma ne parlerò direttamente nei finiti beauty. Ok, da lontano le f... Ma perché mettendolo stamattina? Poi avevo già il correttore, pensavo di aver sfumato al meglio. Ma in effetti non è che sono sporca, forse è tutto nella mia testa. Va bene. Detto ciò, oggi, ragazze, ho messo Plismi di MAC Cosmetics, perché ho visto che anche alcune altre ragazze hanno tirato fuori i loro MAC. Io veramente tanto che non li utilizzo. Perché, ragazze? Allora, i rossetti di MAC, scusate che l'ho sistemato a lato. Plismi è molto carino, è matt, è questo rosellino che adesso, secondo me, è proprio carino. Cercherò di sfruttarlo. Scusate, qui passano di quei camion enormi che mi chiedo come possano dare la circolazione nelle vie così strette, ma va bene. Al momento ho ancora la fiancata intatta. Detto ciò, dicevo che i rossetti di MAC, ragazze, sono sempre stati un po' veramente amore e odio. Nel senso che ce ne sono alcuni che sono troppo secchi, ma veramente troppo secchi. Credo di averne due che rispondono a questa descrizione. Altri, invece, sono carini come Plismi di MAC. È matt, ma allo stesso tempo credo che faccia parte, scusate se è mossa la cintura, credo che faccia parte delle nuove riformulazioni. Partendo però dal presupposto che comunque è tanto, che io non compro MAC, ma veramente tanto, c'è un video sul canale, forse uno dei primi rispetto a quando è stato aperto questo canale, dove vi facevo vedere effettivamente che cos'ho da un punto di vista di rossetti. Ma non erano tutti, perché poi c'è stata una fase che avevo preso qualcos'altro, poi non ho più preso nulla di rossetti di MAC, perché alcuni erano troppo secchi, altri ci voleva la matita. Questa linea di Plismi, questo rossetto, scusate, di Plismi, invece si è steso molto bene anche senza matita. E comunque mi piace. Adesso in questa fase, cambio stagionale, gli devo dare effettivamente giustizia. Poi, ragazze, come trucco, ho sfumato un matitone ombretto di Kiko in tonalità grigia, perché ho, vediamo se si vede, maglione grigio, cappotto grigio, insomma, oggi siamo tutti grigi, e ho sfumato quello, sì no dai, la sbavatura del contornocchi è forse nella mia testa, ho sfumato quello con il bronzer in progetto smaltimento, quindi direi che siamo a posto. Bronzer, blush e illuminante in super smaltimento che sono sempre i soliti, Essence Bronzer, Kiko e Kiko illuminante blush in smaltimento di una vecchia collezione, matita di Benefit in smaltimento che ho soprattutto sistemato a lato, con quella matita praticamente io mi ci trovo a sistemare bene a lato, poi gel fissante di Essence, rossetto ve l'ho detto, ho messo il Fix Plus di Glam Glow, adesso sono nel mood pure Fix Plus, che devo tra l'altro prenderlo anche per mia amma, perché tra l'altro quello di Mario Badescu, che vi ho raccontato, del cui procuò dell'ordine di Zalando, è molto buono, ma è sostanzialmente un tonico skincare, quindi questo anche lei fa, eh ma questo è uno spruzzo un po' da tonico, però devo dire, io non l'ho ancora provato, lei ha detto che è molto buono, lo utilizzerò come tonico, comunque ragazze, niente, io e i miei sproloqui da pazza, vi salutiamo, questo è l'assicuratore che arriva a parcheggiare, mi avrà tirato qualche accidente, perché ho rubato il posto pure a lui, e chi prima arriva meglio all'oggio, io vado in ufficio per questo venerdì, ciao! Buonasera, ragazze, sconvoltation, è venerdì, sono le 17, sono uscita dall'ufficio, no, non è sbavato il trucco, è la luce che sembra che ho preso due pugni in faccia, va bene, detto ciò, abbiamo finito di lavorare da dieci minuti circa, siamo stati da Italmark, perché mio padre doveva, mio padre, cioè, tutte e due dovevamo prendere, i Vitabix al cioccolato fondente, che ogni tanto vi nomino, che li ho nel baule ragazze, e mio padre ha fatto scorta, io ne ho prese due confezioni, con una confezione di galletta al cioccolato fondente di consiglia, non c'è niente molto da vedere, una cosa che ci chiediamo, è come mai i Vitabix, praticamente li hanno solo da Italmark, al Carrefour 0 di 0, e dico vabbè, comunque, sono arrivata al Carrefour, adesso mi faccio un girettino per svagarmi, perché ieri, come vi ho raccontato, non sono riuscita a fare una mazza, se avete seguito il vlog, lo sapete, ho bisogno di svagarmi un attimo, è venerdì, domani purtroppo, non avrò un gran sabato, per varie questioni, che non mi va di raccontare qui, quindi ho bisogno assolutamente, di farmi un'oretta, un po' di relax, poi arrivo a casa, alle 18.15, 18.20, usciamo per l'allenamento, perché arriva anche Alessandro da lavoro, quindi, stasera, mi alleno pure, la cena è già pronta, perché finiamo la torta salata, che ho fatto l'altro, no, ieri mattina, che praticamente, mi sono togliata alle 5 di mattina, finiamo quello, quindi non ho neanche, troppe menate di sorta, ho l'insalata già lavata, che è solo da condire, se ho ancora fame, e quindi, insomma, direi che mi vado a godere, la mia orettina, di svago, al centro commerciale, e nel caso, poi vi faccio vedere, ma non credo di trovare niente di che, spero mai dire mai, ciao. Se, eccomi, giro, un po' che bel cielo, giro un po', ho fatto proprio, il giro del centro commerciale, mi sono distratta un po', ho visto qualcosina, ho visto la vetrina di Douglas, mi sto sanificando le mani, ma, niente di che, perché poi, c'è un prodotto di Collister, che mi interessa, perché sapete che, mi piace molto Collister, ma per il fatto che, comunque, 2-3 volte l'anno, c'è la svendita, alla quale io riesco, a partecipare, comunque, grazie a mia cugina, sinceramente, preferisco, c'era uno sconto, sull'anticellulite, di, qualcuno si è sentito male, perché sta passando un'ambulanza, scusate, dicevo che, infatti, c'è questo, il cryo gel anticellulite, di Collister, che vorrò provare, da Douglas, è scontato al 20%, e costa 39,90, sinceramente, io so che con la svendita di Collister, molto probabilmente, lo pagherei 18, 19 euro, aspetto, non so se avrete visto, nei finiti beauty, di febbraio, perché agli sgoccioli, non so se rientrerà o meno, parleremo della crema anticellulite, che ho utilizzato in questo periodo, di Collister, tanto amore, e quindi, insomma, però, questo sconto di Collister, sinceramente, so che posso trovarla meno, e adesso, comunque, non è che non ho prodotti, quindi, aspettiamo un attimo, e quindi questo, niente di che, mi sono proprio svagata, guardando altro, non ho preso assolutamente nulla, vi ho appunto raccontato queste cose, adesso, mi avvio verso casa, così, nel mentre, sicuramente, la signora delle pulizie, che ci aiuta a pulire la casa, il venerdì, avrà finito, io arrivo, mi cambio, arrivale dal lavoro, e mi alleno, ciao! Ciao ragazze, sono arrivata al lavoro, ho spento la macchina, benvenuta nella continuazione, del vlog, un vlog un po' così, le notizie un po' così, sono giornate, mi sembra quasi, un po' ripetitivo, dire certe cose, ragazze, però, purtroppo, è così, ci sono degli up, ci sono dei down, il mondo va in up, e il mondo va in down, limitiamoci a dire questo, certe notizie, mi lasciano, un po' perplessa, c'è tutta, sto mettendo un lipgloss di Astra, perché non ho messo nulla stamattina, e ho voglia di mettere questo, che tra l'altro, avevo in borsa, che si riconferma, bellissimo, dicevo che, questo vlog, non so se lo metterò online o meno, probabilmente sì, probabilmente no, sapete che io non ho molti filtri, nel senso che comunque, si vede effettivamente quando, quando è ok, e quando non è ok, le notizie del mondo, non sono ok, sono sotto gli occhi di tutti, non bastava, tutto quello che conosciamo, ma anche altre cose, perché, probabilmente, il mondo è un po' questo, no, è un po', non ti puoi sedere sugli allori, si può dire, non lo puoi fare in generale, ma, soprattutto da un punto di vista, di incolumità, probabilmente, manco quello, e, e sono giorni, che rifletto sul fatto, che, cioè, non mi devo lamentare, perché ci sono persone, che sono sotto le bombe, ma ritengo anche, che, da un certo punto di vista, non è neanche corretto questo, perché, tutti noi pagheremo questa cosa, chi più, ovviamente, le persone, che stanno subendo, questa ingiustizia, e mi limito a dire questo, perché, non sono nessuno, per dire, che cosa penso, che cosa non penso, però, veramente, se penso, alla storia, che ho studiato a scuola, che, in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, all'università compresa, perché, a giurisprudenza, abbiamo fatto anche, determinati esami di storia, di storia del diritto, di quanto il diritto, sia fondamentale in Italia, ma soprattutto nel mondo, cosa che, io più ascolto, il telegiornale, le notizie, e dico, no, questo è un brutto incubo, e adesso ci svegliamo, ci svegliamo, da, da, da quando è successo, che è mancata una persona, molto cara nella mia vita, ve ne ho anche parlato, quasi due anni fa, alla pandemia, a tutto, mi sembra tutto, un brutto incubo, mi sembra tutto, un brutto incubo, mi sembra tutto, una cosa che, tu dici, boh, ci svegliamo, ci svegliamo, e tutte le brutte cose, che sono successe, si azzerano, perché è questo, che una persona spera, perché veramente, non credo più, a domani andrà meglio, oggi deve andare meglio, oggi, non domani, non poi, mi faccio forza, nella misura in cui, io sono comunque ancora, una persona fortunata, ma non vuol dire, essere contenti, purtroppo è la realtà, da che è scoppiata questa cosa, penso a una ragazza come me, sotto un altro cielo, che però è di per sé lo stesso, perché siamo tutti sotto lo stesso cielo, sotto una parte di cielo, dove sopra ci sono le bombe, una ragazza come me, che non ha la fortuna, di poter parlare di frivolezze, di portare avanti, nonostante tutto, un lavoro, una vita più o meno, più o meno normale, e mi sento, un misto di cose, una, da un lato, una persona fortunata, dall'altro lato, dico, ma perché, non possiamo essere tutti, uguali, perché, perché non possiamo dividere tutti, lo stesso cielo, senza bombe, perché, non ho risposte, non hanno risposte al telegiornale, se non stati di angoscia, continui, perenni, snervanti, non lo so, non lo so, sinceramente, mi sforzo anche, di continuare a portare avanti, determinate cose, extra, responsabilità, perché mi piace, perché mi piace parlare di beauty, perché è giusto così, anche sforzarsi, sotto certi punti di vista, e nei vlog, mi piace, mostrare effettivamente, il mio punto di vista, se sono contenta, se sono triste, se sono preoccupata, questa sono io, senza filtri, senza inganno, e so che a molte di voi, questa cosa piace, e mi fa piacere, perché vuol dire, che siete persone simili a me, per quanto io, ho alcuni lati del carattere, che proprio, ci sono certi momenti, che mi strozzerai da sola, ma questo è un altro paio di maniche, però, veramente, sono abbattuta, sono preoccupata, come penso, la maggior parte di voi, però, cerchiamo di essere, grati per tutte le cose, che ho detto prima, perché siamo sotto, una parte di cielo, che non ci sono bombe, perché ci possiamo alzare, tutte le mattine, e cercare di fare, il nostro dovere al meglio, cercare di avere, un po' di pensieri belli, quindi, speriamo almeno, di continuare a fare questo, speriamo, perché, oramai, non si può, più dire, è così punto, bisogna vedere come va, e, e quindi questo, per quanto riguarda, le cose che ci piacciono, è un due o tre giorni, che ho voglia proprio, di trucchi luminosi, non so se si vede, belli, d'effetto, semplici, belli, semplici, d'effetto, che trio di parole, e quindi questo, ho utilizzato, due ombretti mono, di essence melted, che dovreste conoscere, da 150 anni, il bronzer sfumato nella, nella, come si chiama, nell'arcata, sopracciglia, con la matita di Benefit, che sto smaltendo, gloss di Astra, che adoro, sto finendo, il correttore di Too Faced, che siamo agli sgoccioli, ma lo vedrete a marzo, perché lo sto tirando, proprio agli ultimi, bronzer, blush illuminante, in super smaltimento, della settimana, li conoscete, essence e Kiko, e vado al lavoro, ciao. Come ragazze, buongiorno, sono arrivata al lavoro, sono oggi, 8 e 34, già proprio, ciao a Nemma, devo fare anche più cose, quindi, 5 minuti entro, così mi concentro, e non penso, ok, non commentiamo, perché, è inutile scendere, nei particolari, credo che tutti sappiamo, oramai, le varie vicissitudini, comunque, detto ciò, oggi, ho una quantità di rossetti, nella borsa del lavoro, che mi dimentico di togliere, cioè, mi sto pure lamentando, da due giorni, che ho la borsa del lavoro, troppo pesante, probabilmente sono tutti, a parte le penne, che, vabbè, adesso, ne scaricherò qualcuna, perché nelle varie aziende, poi quando, andiamo dai clienti, sono tutte belle, e io le prendo, e me le tengo in borsa, tra l'altro, alcune, troppo belle, cioè, guardate, hanno pure, il led, tipo, il touch, qui, adorissimo, questa è un'altra, Caterina e la passione penne, adoro, regalatemi una penna, e un profumo, e sarò la persona, più felice della terra, tra i mille e mila rossetti, che mi dimentico, di togliere dalla borsa, che uso, oltre a, il rossetto d'emergency, d'emergenza, che, ragazze, non ve l'ho messo, nei finiti beauty di febbraio, sono pessima, lo so, però, volevo tirarlo, ancora un po', quindi, questo, ok, oramai, non mi dilungo, su questa cosa, perché dovrebbe, dovrebbe, uscirvi dalle orecchie, oggi mi sono truccata, ragazze, con, l'Anarchy Glam Palette, di Mulac Cosmetics, era un po', che non la utilizzavo, c'è sempre questo, ombrettino, cream to powder, che ho messo, adesso non so cosa vediate, ok, qua, è molto molto particolare, ha una texture, che rispetto a tanti ombretti, che ho provato, non l'avevo ancora testata, cosa dite, vi piace? Era un po', che non la utilizzavo, bella, comunque i colori, mi piacciono, e quindi questo, come rossetto, ragazze, che cosa possiamo mettere, un qualcosa di strong oggi, rosso direi di no, perché questo è sui toni, melange, melangiati, che cos'è che ho d'altro, perché qui, mi dimentico ditto, ah, bello, quello di Belen Rodriguez, per Diego Della Palma, però non ho dietro la matita, perché poi le matite, io vado un po' a momenti, non lo so, mi sento una profumeria, stamattina, va bene, detto ciò, detto ciò, detto ciò, ragazzi, se non voglio mettere una cosa strong, perché non mi va di alterare il make up, non che col rossetto strong, si alteri il make up, però vado a mettere il rossetto di Belen Rodriguez, per Diego Della Palma, giuro che svuoto poi la borsa, perché effettivamente ne ho troppi nella borsa, ok, questo è molto carino, nel senso che comunque si può gestire, con un sacco di look, nasceva anche la matita, ragazze, ma io, le matite vado un po' a super momenti, è molto bello anche da solo, è confortevole, non tira le labbra, sta bene con un sacco, un sacco di look, oggi c'è un riverbero bestiale, detto ciò, cosa dite? Mi piace? A me molto, 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 oggi hanno parcheggiato tutti peggio del solito, va bene, la vacanzina di carnevale è finita, le scuole sono rientrate, quindi già Bronx dei parcheggi, detto ciò, ragazze, non so, non ho la più palla idea di che cosa sia avvenuto di questi sproloqui, molto, molto preoccupanti, però, nella clip di stamattina ho cercato un po' di deviare un attimino, proprio perché è il caso, in ogni caso, scusate la ripetizione, che bel cane, mi piace molto l'Anarchy Glam Palette, cosa dite? Io di Mulac ho avuto un po' una sorta di amore e odio, nel senso che, ne avevo una di palette, che però ho regalato, la prima, non mi ricordo neanche più come si chiamava, insomma, non sono passati 300 anni, però, l'avevo regalata, perché ho declatterata, scusate, in ingergo, perché proprio non mi ispirava più di tanto, ho due tinte labbra, che se mi seguite dovreste ricordarvele, una è in my body suit, che è comunque un bellissimo nude, l'altra, è sui toni aranciati, con un sotto, rosso aranciato, non mi ricordo il nome, poi se volete magari ve la faccio vedere, ma, cioè, vi parlo di, poi ho comprato questa a Natale, l'ho regalata tra l'altro a mia cugina, anche per Natale, che non mi sta dando grosse soddisfazioni, stasera al compleanno di sua mamma, le tirerò anche le orecchie, le farò vedere, guarda la palette che ti ho regalato, che bei trucchi, questa devo dire che comunque mi piace, proprio perché ha questa texture, di questo ombretto un po' particolare, che fa molto all'interno di questa palette, che però non è super luminoso, perché qua, io ne ho messo un altro luminoso, che mi apre un po' lo sguardo, se avete visto il video, dei 5 prodotti top del mese di febbraio, avete visto che sono in mood molto, dei trucchi luminosi, infatti vedete che cerco, nonostante tutto, di mantenere questa cosa, proprio perché mi piace, mi fa star bene, mi piace come mi sta, però qua appunto ho messo, questo ombretto molto molto particolare, che ragazze se non si dosa il dito, proprio sulla cialda, si fa uno pseudo disastro, però l'effetto mi piace, e ho utilizzato appunto, questi colori un po' più aranciati, però la palette di Glam, sì, Anarchy Glam, palette appunto di Mulac, varia anche molto, perché c'è anche una sezione fredda, è molto molto particolare, se vi piacciono questa tipologia di colori, un mix tra caldo e freddo, quella devo dire che, è molto molto aperta, versatile, andate a curiosare, se mi ricordo appunto, vi metto anche il link di Mulac Cosmetics, del sito appunto, sull'infobox, nulla ragazze, sono le 9 meno 20, entro a lavoro, che anticipo un attimino, magari mi prendo un altro caffè alla macchinetta, e comincio la mia giornata lavorativa, oggi un po' prima, apro io, non c'è nessuno, quindi mi godo anche un po' di silenzio, dall'ufficio, finché non arriva tutta la brigata, e noi ci vediamo credo, o dopo domani, che cercherò di concludere questo vlog, che non ho la più palida idea, di che cosa sia venuto, ma molto probabilmente, sproloqui lamentosi e preoccupanti con me, non lo so, cerchiamo di stemperare un attimino, nonostante tutto, e preghiamo insieme, che è meglio, ciao. Buonasera, eccomi, mamma che faccio a sconvolta, è sempre, mercoledì, ce la possiamo fare, sì, sono uscita dal lavoro, pomeriggio bello condito, e sono venuta a fare un attimo, un giretto dai cinesi, con mia mamma, perché poi stasera, sono a mangiare da mia zia, perché è il suo compleanno, però lei non lo sa, che andiamo tutti, sono un po' stanca, ma per questo, per questa cosa, questo ed altro, siamo passati un po' qui dai cinesi, insomma, ogni tanto i cinesi ci distraggono un po', ci sanifichiamo le manine, allora, dai cinesi ragazze, non ho preso nulla, se non, questo, cura lavatrice, 1,49 euro, questo qui, della scala, hanno dei prezzi ragazze, queste cose, che io non ho ancora capito bene il motivo, però, 1,49 euro, ho detto, boh, possiamo provare a farlo, per una perfetta manutenzione delle parti interne, proteggere la lavatrice, rimuove lo sporco, eliminando i cattivi odori, pulisce le parti interne, rimuove residui dei detersivi, allora, noi facciamo i trattamenti, le cose, però, sono un po', in un attimo di trip, con la lavatrice, perché vorrei purificarla un attimino, non lo so, vediamo, della scala, comunque, io ho provato alcuni prodotti ammorbidenti, che avete visto anche nelle sedute casalinghe, adesso, stiamo finendo una seconda confezione, super mega risparmio, che presi, avete presente quelle salva, anti, con poca plastica, no? ecco, vediamo, la linea scala è comunque una linea abbastanza low cost, hanno buoni prodotti, vediamo questo qui come sarà, fatemi sapere che cosa utilizzate voi, come sezione cura, lavatrice, eccetera, ho visto un po' i profumatori, ma ragazze, ma i profumatori per il bucato, hanno dei prezzi, che tu dici, boh, per utilizzarli una volta, 5, 8, 10 euro, non lo so, cominciamo con questo, e vedremo un po' com'è, poi ho preso un pensierino per mio nipote, perché appunto, stasera ci sarà anche Emanuele, e gli ho voluto prendere una palla luminosa, ragazze, questa luminosa, che fa i rumori, non è luminosa, ma fa i rumori, però sono di spugna, siccome non ce l'ha, ho voluto prendergliela, spero gli piaccia, dice, palla sonora morbida con sonaglio, di teorema giocattoli, mi sembrava una cosa carina, perché comincio, insomma, ha fatto 13 mesi l'altro ieri, un pensierino per i 13 mesi il 28 febbraio, vediamo un po' con la palla come va, quelle morbidose, poi ragazze, fesci l'altra settimana un ordine, dal sito Edo Profumi, ho preso due profumi, uno l'ho appena dato a mia mamma, uguale a questo, Edo Profumi è un sito che ho scoperto di profumi, che ho scoperto da Valentina Vale Beauty Channel, che vi invito ad andare a seguire, ho utilizzato il suo codice sconto, Valentina 12, però se andate nel suo video, credo che sia il penultimo, dove dice che lei ci ha collaborato, io ho voluto prendere, ragazze, sia per me che per mia mamma, due profumi, che mi sono arrivati a lavoro, ecco, l'unica pecca è che io ho comprato il 100 ml, questo è un 100 ml, vedete che è largo, però il brand, io gli ho scritto, mi ha detto che hanno sbagliato ad applicare l'etichetta, perché sono chiaramente di nicchia, come profumi, Edo Parfum, ho preso Narciso Rodriguez Inspired, allora ragazze, diciamo che, ho provato adesso, ma è fine giornata, non ho molta coscienza, se ci siamo o non ci siamo come dupe, sapete che io non mi faccio problemi di alcun tipo con i dupe, che utilizzo di tutti i tipi, però ovviamente questo non costa come i dupe, che trovo da CVG o dai cinesi, costa il giusto, come profumo, siamo sui 35 euro, se non erro, 34-35 con lo sconto di Valentina, quindi comunque costa un pochettino di più di quelli, proprio da battaglia, da tutta la settimana, me lo sono voluto concedere, devo studiare un attimino la resa, e poi ne parliamo, fatemi sapere se conoscete il sito Edo Parfum, io mi sono un po' lanciata, avevo voglia di provarlo, e ne ho presi proprio due, uno a me, uno a mia mamma, lei l'ha provato, ha detto che gli sembra un po' forte, chiaramente è il primissimo utilizzo, dobbiamo vedere la resa, vedremo un po', nulla ragazze, io adesso vado verso casa, poi Alessandro uscirà da lavoro, e andiamo da mia zia, chiudo qui questo vlog, non ho la più palida idea di che cosa sia venuto, prendiamoli sempre un po' come sono, spero comunque di avervi fatto un po' di compagnia, so che anche i vlog comunque vi piacciono, anche i miei scleri, le mie polemiche, insomma, io sono così, senza filtri, senza filtro e senza inganno, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto, e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, e ci vediamo al prossimo video, ciao!